Anche quest'anno si è svolta la commemorazione dei caduti di tutte le guerre, qui a Villa Potenza organizzata dal nostro parrocchiano Peppe Molini che con molta passione porta avanti questa iniziativa da svariati anni. E diciamo subito che oltre alla commemorazione dei caduti delle guerre sono state premiate anche delle persone a cui è stato riconosciuto un particolare valore rappresentativo durante questo periodo. In particolare quest'anno abbiamo premiato anche Peppe Molini stesso che appunto porta avanti questa iniziativa da molti anni e che quindi tiene particolarmente e ricorda a tutti i giovani e a tutti i nostri parrocchiani quali sono state le vicende delle guerre. Quest'anno in particolare è stata molto calorosa la partecipazione sia di pubblico sia di autorità, la provincia, il comune con il sindaco e con tre assessori, consiglieri comunali e addirittura vigili del fuoco. Proprio per riconoscere che questa iniziativa è un'iniziativa molto bella, è un'iniziativa che va portata avanti, è un'iniziativa che ci aiuta a ricordare quali sono state le vicende delle guerre, per riconoscere la morte di tanti nostri nonni e bisnonni strappati appunto dalle loro campagne, dai loro lavori e portati a morire in una guerra dove li hanno messi gli uni contro gli altri. Come tutti gli anni, anche quest'anno è stato fatto fare da Peppe Molini alla pittrice Fogante Maria un bel quadro, un quadro che ricorda il fiume Piave, il fiume Piave e la battaglia che ci fu nel fiume Piave. Giustamente il Piave è stato paragonato così, abbastanza vicino al nostro fiume Potenza, un fiume piccolo che però è pieno di impeto quando arrivano le acque delle piogge e quindi questo Piave che è riuscito a fare da baluardo contro gli austriaci che volevano invadere l'Italia. E questo quadro è stato portato in processione al nostro monumento ai caduti, un monumentino ai caduti a cui teniamo particolarmente a Villa Potenza che si trova al centro della frazione e dove tutti gli anni appunto vengono portati quadri e ricordi di quello che sono state le due guerre mondiali che abbiamo vissuto e di tutte le persone che sono cadute anche qui di Villa Potenza. Quindi bellissima anche questa iniziativa, oltre a questo sono state portate delle corone, come vedete alle mie spalle una corona lasciata dal sindaco e un'altra corona appunto lì all'ingresso del monumento ai caduti proprio per ricordare tutti i caduti delle nostre guerre.